pace fra domenico anzitutto qualche parola su di te da dove provieni quali servizi hai svolto cosa imparato nella tua vita di frate ecco io sono abruzzese di quell'abruzzo forte e gentile sono frate minore conventuale da 45 anni l'obbedienza mi ha chiesto di svolgere diversi servizi in questi anni in diversi conventi formatore guardiano ministro provinciale preside della facoltà pontificia san bonaventura di roma docente da altri servizi ora sono vicino all'età pensionistica anche se è vero che i frati non vanno in pensione ma i frati come tutte le persone invecchiano e per me invecchiare significa imparare a perdere forze e spazi ecco fare un passo indietro da servizi in prima fila per curare maggiormente uno sguardo sapienziale di sintesi aperta al futuro ricordo che quando ero seminarista e mia mamma mi chiedeva come stai rispondevo bene ma starò meglio andando avanti sendo sempre vera questa incompletezza solo che ora dico sto bene e starò meglio al posto del ma metto la e che congiunge verso un compimento e la stagione della sintesi e del compimento ecco verso l'eterno negli ultimi anni sei stato anche vicario del custode e hai potuto così conoscere un po meglio la realtà della basilica del santo momento di assisi c'è qualcosa del carisma francescano che hai potuto comprendere più a fondo da questa prospettiva particolare come vicario lavorando accanto al custode padre mauro gambetti ora cardinale e nel definitorio ho avuto la grazia di toccare con mano il dono grande che francesco di assisi per la chiesa e per tutta l'umanità ecco perché tanti vengono in assisi perché francesco piace a tutti e va bene a tutti la risposta mi sembra risieda nel fatto che francesco è una persona riuscita una persona autentica libera contenta francesco è una persona che sa amare chiediamoci dove francesco ha imparato a vivere autenticamente senz'altro dal vangelo da gesù cristo questo ci porta a riconoscere il vangelo la fede cristiana come pienezza di umanità in questi anni come fraternità custodiale abbiamo approfondito tre elementi costitutivi del carisma di francesco ecco perché francesco è francesco il primo elemento è la minorità che francesco impara contemplando l'umiltà di dio che si è rivelato donato e detto in gesù di nazareth ecco la minorità come verità dell'amore chi ama considera l'altro più importante di sé ecco la minorità come comunione il secondo elemento è la prossimità che è il linguaggio di francesco francesco parla facendosi prossimo specie più poveri il terzo elemento che abbiamo considerato in questi anni è l'accoglienza francesco sentendosi amato accolto da dio ama accogli tutti con gratitudine e gioia siamo in profonda crisi e anche la vita francescana vive in questa crisi e vive la sua crisi quale dovrebbe essere a tuo avviso l'apporto dei francescani oggi sì è vero viviamo in un tempo di profonda e continua trasformazione papa francesco parla di un cambiamento di epoca e questo ci dice che viviamo in un cambiamento di paradigma culturale e quindi di linguaggio di comprensione ecco quale contributo possiamo dare noi francescani in questo momento di crisi condivido profondamente quando papa francesco si aspetta da noi religiosi essere profeti ossia dire con la vita e con le parole in particolare con la comunione fraterna ad intra e ad extra la bellezza dell'amore di dio non di una di un dio astratto di un amore platonico ma di quel dio di quell'amore che si è rivelato storicamente in gesù di nazareth l'amore credibile perché crocifisso e risorto questo è il cuore la vita l'annuncio di francesco di assisi e direi che il segno profetico che noi francescani siamo chiamati a porre oggi è la profezia escatologica ossia essere segni di speranza testimoni del risorto e della vita eterna la crisi attuale segnata dalla pandemia e dalla guerra anzi da tante guerre sta riproponendo al centro la nostra precarietà la morte quindi la crisi attuale rilancia fortemente la questione del senso del morire e del vivere e noi qui in assisi come frati siamo chiamati a testimoniare e annunciare questa profezia che il senso ultimo della vita della morte delle nostre relazioni e nella eternità intesa come comunione di vita con dio che va oltre la morte di cui la risurrezione di gesù è fondamento e promessa è stata una chiacchiera davvero molto interessante preziosa fra domenico grazie di cuore e un saluto a tutti gli amici e alla prossima settimana grazie a tutti